Ciao, sono Giuseppe, sono Dino Vastiri, sono socio Syscrack e anch'io ho dato il mio contributo ad Officine Mediterranea per la produzione di 500 studi facciali da donare alle 118 basilicane. L'Officine Mediterranea è un network di maker, aziende e professionisti della Basilicata, della Puglia e della Campania che si sono uniti per dare il proprio contributo alla lotta al Covid-19. Per soddisfare la richiesta dei 500 pezzi ci siamo autofinanziati utilizzando tutti quei materiali che ognuno di noi aveva già in casa. Vista la crescente richiesta abbiamo attivato una raccolta fondi per poter contribuire all'acquisto dei materiali necessari alla staffa. Se anche tu vuoi contribuire troverai tutti i metodi con cui potrai darci una mano sul sito syscrack.org. Ognuno di noi può fare la sua parte per sconfiggere il Covid-19. Fallo anche tu. Grazie.